Meghan Markle e il principe Ferry hanno insistito nel rifiutare l'invito dopo che è emerso che non avrebbero partecipato al matrimonio del duca di Westminster, un caro amico della famiglia reale, al principe Ferry e Meghan Markle non è stato chiesto di partecipare al matrimonio del suo caro amico perché il dramma li segue ovunque vadano, ha affermato un commentatore reale. Il commento arriva dopo che Hugh Grosvenor, il duca di Westminster, amico intimo sia di Ferry che del principe William, non ha invitato i Sussex al suo imminente matrimonio con Olivia Hanson, fonti vicine alla coppia sostengono che Ferry abbia rifiutato l'invito per evitare una riunione imbarazzante con il fratello maggiore. Ma l'esperto reale Kinsey Schofield ha suggerito che il duca di Westminster avrebbe fatto bene a non invitare la coppia reale per evitare di distrarre dal proprio matrimonio. Ha detto, penso che questa decisione sia una decisione piuttosto basata sul buon senso, perché dovresti invitare le persone, quel dramma le segue ovunque vadano. E questo è il mio più grande argomento nei confronti di Ferry e Meghan. Citando il successo di Taylor Swift anti-hero, ha aggiunto, quando ti guarderai allo specchio e dirai sono io. Ciao, il problema sono io. Schofield ha poi bollato la coppia come tossica, e ha detto che possono dire tutto il giorno che non erano coinvolti in Endgame, ma alla fine le loro impronte sono così ovunque in Finding Freedom di Omid Scobie, che è difficile dire che loro non erano in alcun modo associati a Endgame. L'autore Omid Scobie ha negato di aver ricevuto alcun input dalla coppia reale durante la scrittura del suo libro, ma sono stati sollevati dubbi sul potenziale coinvolgimento. Difendendo la decisione di non invitare la coppia al matrimonio, ha detto a GB News che se vogliono un giorno sacro per celebrare agnunione, perché invitare Ferry e Meghan lì per devastare il vostro grande giorno, bollando la loro apparente snobbare come mossa di buon senso.